Ciao a tutti ragazze e ragazze e benvenuti in questo oggi c'è un che te un ospite speciale dai allora faremo una challenge che questa è la challenge me la sono inventata io però non so se poi qualcuno ha fatta comunque me la sono inventata io che dobbiamo cercare l'Aki appunto il suo cane quindi come si intitola? come si intitolerà? challenge cerca il cane l'Aki cerca l'Aki vabbè comunque è questo alla ricerca di l'Aki ok challenge alla ricerca di l'Aki alla ricerca di l'Aki challenge ok abbiamo deciso pure il titolo e comunque questa è la challenge in che cos'insiste? prima di tutto abbiamo 5 round a testa 5 a me e 5 a lei quindi in tutto 10 round e dobbiamo cercare di fare appunto 5 punti chi non lo riesce a trovare ha perso ma credo che vinceremo perché tanto la casa di nostra sì è grande però dai ci riusciremo perché poi noi l'Aki lo nascondiamo in una sola stanza poi se qualcuno dice mi arrendo il punto non vale iniziamo ah lo nascondo io a Claudia e vi faccio vedere dove lo nascondo quindi Claudia poi quando tu lo nascondi devi far vedere va bene? ok ragazzi ecco l'Aki dove lo nascondiamo Claudia non vedere non vedere sta dietro e allora però Diorati no sì dov'è secondo te? ti ho imbrogliato eh ti ho imbrogliato cara cara brava quindi un punto a lei adesso il mio round il mio primo round ok no l'abbiamo ho già fatto vai prendi l'Aki ok bello sì cercandolo quindi siamo uno a uno adesso il secondo round suo nascondiamolo dove lo nascondiamo ragazzi Claudia che cavolo fai? balla balla sì ma è normale tu me lo potevi nascondere quindi lei due punti adesso il mio secondo round ok te l'ho avviato devi fare no 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 non ho fatto hai visto però devo nasconderlo è caduto ok adesso è il terzo round di Claudia che sono io quindi però siamo 2 a 2 per ora a te credo che vinceremo tutte e due questa challenge perché è facilissima quindi tutte e due l'abbiamo vinta ok però non è detto mancano 3 punti ancora allora adesso il terzo round di Claudia no 5 e 5 10 no allora 5 round a te 5 round a me che in tutto vanno 10 round ok allora ragazzi ve lo nascondiamo un gran problema no non puoi no no Claudia no fatto vai si adesso dilla terzo round terzo round per il frattempo ragazzi io mi vado a sedere leva le dita io mi vado a sedere fatti allora quindi per il momento siamo 3 a 3 adesso ho quarto round il penultimo round di Claudia quindi il quarto e no tu devi andarti a sedere che pensavi di fare non è mio è di Daphne di mia sorella ok un attimo accendo la luce accendo la luce nel bagno perché c'è no ok accendi la luce e dillo adesso quarto round è mio quarto round di Francesca ok fattu vanno la luce è la luce vanno usare vanno usare vanno usare allora per il momento stiamo 4 a 4 adesso quinto round e ultimo di 4 cento di laura ok vatessi te? prendete un cristino vatessi te? ok ok non importa come fate un cristino fatto? no fatto? no fatto? ti ho imbrogliato ok è rimbrogliato? si adesso? non si vuole si vuole il cristino non si vuole il cristino ok vieni no l'ho azionato già vatemi prendere questo andiamo ho fatto? un attimo ma si che si mi ha vinto tutti e due quindi dammi qua speriamo che questa challenge con lucky vi ti abbia detto se volete like in un prossimo video lasciate almeno quanti like? quanti? 100 100 100 magari almeno 30 like anzi 25 like e noi ci vediamo al prossimo video ciao l'hai fatta della scolleggia l'hai fatta della scolleggia l'hai fatta della scolleggia